Torneranno al lavoro da settembre come dipendenti Conad alle stesse condizioni contrattuali che avevano con 2G. È decisamente positivo il risultato del lungo vertice che si è tenuto ieri pomeriggio a Firenze presso la sede regionale della Confcommercio tra i sindacati e l'RSU-CAD la 2G e i vertici societari di Conad Tirreno. È stato raggiunto l'accordo per la cessione dei primi 15 punti vendita di cui 7 sul territorio provinciale aretino. L'accordo definitivo dovrebbe essere siglato entro il 22 agosto. L'operazione è gestita da Astre SRL, incaricata da Conad Tirreno di rimettere in sesto l'azienda attraverso lo strumento dell'affitto per poi passare all'acquisto definitivo. Nella catena verranno assunti tutti circa 250 dipendenti dei 15 punti vendita 2G. I sindacati e l'RSU sono riusciti ad ottenere le condizioni di impiego richieste. Conferma della retribuzione del trattamento contrattuale che avevano precedentemente e mantenimento degli scatti di anzianità. Il lavoro riprenderà a settembre, ma secondo quanto esposto da Conad, molti dipendenti saranno impegnati anche nelle settimane precedenti e nell'allestimento dei nuovi punti vendita. Soddisfazione è stata espressa dalle rappresentanze sindacali, in primis dal delegato CGL Claudio Bianconi. Il responsabile della segreteria retina di Wiltux, Diego Loreto, si è detto piacevolmente impressionato dal gruppo Conad, che, ha dichiarato il sindacalista, fa chiaramente intendere di voler fare imprese in modo serio. Al contempo, Loreto sottolinea come quest'ultima soluzione, benché provvidenziale, rappresenti solo una parziale risposta al ben più grande problema inerente al gruppo Cadla 2G e le società collegate. Se infatti sono in corso le trattative con Conad Umbria per l'acquisizione di altri otto punti vendita, restano aperte le questioni riguardanti la cessione dei rimanenti 13 negozi del gruppo 2G e soprattutto la difficile situazione dei dipendenti del magazzino Cadla, che Conad non intende includere nell'accordo.